Io sono ovviamente affezionatissimo al Mediterraneo, perciò ho passato sei anni, insomma, con varie responsabilità, poi ho fatto l'inviato, sono veramente stato una delle parti più importanti della mia vita professionale. La seconda cosa è che questa è una trasmissione che ha raggiunto, credo, un record nei premi che ha ricevuto. Diciamo, non lo dico solo perché uno l'ho vinto io, ma perché tantissimi colleghi che hanno collaborato e Giancarlo ne ricevono quasi ogni anno. L'altra cosa vorrei sottolineare è che questo prodotto, che è un prodotto di eccellenza, e dico premi perché è eccellenza, a livello internazionale riceve riconoscimenti, è realizzato da una sede regionale. Va rimarcato perché in genere si pensa che una sede regionale abbia delle professionalità, come dire, di serie B. Noi fin dal primo numero abbiamo pensato che invece noi avevamo le potenzialità per essere serie A e siamo diventati a direttora, come si dice, Lega Europea. L'altra cosa è che ovviamente, diciamo, non è che il telegiornale, l'informazione, Mediterraneo e tutto il resto dell'attività della sede sono cose slegate. Hanno un linguaggio comune, hanno degli intenti comuni e noi stiamo realizzando anche come sede un recupero fortissimo, diciamo, della nostra memoria. Abbiamo cominciato, abbiamo pubblicato un libro, io e Gian Mauro Costa l'abbiamo curato, però stiamo facendo anche tante altre attività e penso che nel giro di un mese, un mese e mezzo, con la complicità di Nino Buttitta, che ancora non lo sa, faremo un'iniziativa per rendere pubblica una grande, anche di Vascinardo, faremo un'iniziativa per raccontare un pezzo consistente della storia di Rai Sicilia e di metterla a disposizione veramente, diciamo, di tutti i siciliani. Il più grande intellettuale d'Europa si chiamava Isaia Berlin, già il nome vi dice a quale etnia apparteneva. Ha scritto una cosa straordinaria, e dico questo per spiegare il significato che attribuiva lui giustamente al termine regione. Ha scritto una cosa straordinaria, il romanticismo ha inferto alla regione europea una pugnalata da cui l'Europa non si è mai più ripresa. Che cosa intendeva dire? Intendeva dire che è stato il concetto di nazione, che ancora pesa, no? È stato il concetto di nazione che ha scatenato i conflitti mondiali e che soprattutto nell'affermazione locale, globale, ha affermato, come dire, il valore della nazione e il disvalore della regione. Noi stessi ancora oggi, quando sentiamo la parola federalismo, ci muoviamo male, mentalmente, psicologicamente male, perché abbiamo dimenticato Cattaneo, abbiamo dimenticato Gioberti, abbiamo dimenticato Rosmini, abbiamo dimenticato Mazzini, abbiamo dimenticato il grande Kolaianni. Il romanticismo ha inferto all'Europa una pugnalata da cui l'Europa non si è mai più ripresa. La pugnalata è il concetto di nazione. Io spero che i nostri politici abbiano il coraggio, in questo momento storico del Mediterraneo, di assumersi la responsabilità di scegliere. Di scegliere che questo ruolo per la Sicilia, di leader, di un mondo nuovo, dove il pensiero Mediterraneo torni ad essere un pensiero forte, un pensiero che si oppone a quello, diciamo così, del progresso costante, dell'uomo economico. Il nostro uomo è questo, è quello che racconta questa trasmissione da vent'anni, un uomo che conosce l'armonia dell'antico Mediterraneo. Questo è il ruolo di questa trasmissione. Il nostro uomo è il nostro uomo è il nostro uomo.